buongiorno ci troviamo con matteo gaiardi per parlare di cinema allora matteo gaiardi come si chiama film maker il tuo lavoro che vista c'è una definizione particolare è autore di docu film regista anche produttore in questo caso di tutto di più riesino giusto di origine di origine di origine di esino ed è alla per quello che ci riguarda che conosciamo noi la seconda opera dopo fu qui c'è ma già abbiamo l'inferno dantesco ma un inferno dantesco molto moderno in cui una professoressa spiega i suoi alunni l'inferno moderno però sarei più contento che ci che ce lo racconti te cos'è questo inferno che hai voluto rappresentare è un inferno come è questo inferno è un inferno attuale nel senso in cui lo è l'opera del sommo sempre attuale quindi eterna quindi la grande tesi è quella di dire che se è attuale oggi lo sarà tra altri 700 anni visto che non è stata 700 anni dopo la sua scrittura cioè oggi ecco la tesi principale di questo film è sicuramente quella dell'attualizzazione della rilettura attualizzante però per realizzare questo risultato ci siamo avvalsi di tantissimi linguaggi perché abbiamo rispettato anche il carattere polisemico multimediale diciamo in un certo senso multimediale anche se non poteva essere multimediale nell'epoca di Dante multimediale multimediale come intendiamo oggi ma soprattutto ipertestuale perché coinvolgendo moltissimi fatti di cronaca di storia citazioni di opere d'arte letterarie chiaramente apre delle possibilità di approfondimenti in tantissime direzioni e da questo punto di vista lo rende molto adatto alle scuole perché ecco lì che il ruolo del docente funge da cioè si occupa di una mediazione quanto mai necessaria per alcuni elementi anche se devo dire in base ai primi riscontri che abbiamo avuto abbiamo già incontrato sette otto classi sette otto anzi istituti con vari classi e devo dire che i ragazzi si divertono molto perché anche se magari non comprendono tutti i fatti di cronaca che vengono citati senza neanche mettere sotto pancia perché sono talmente iconici da essere immediatamente riconoscibili forse questo può valere per una persona che abbia una cultura media e un'età media certamente per quelli nati dopo il 2000 certi fatti del novecento potrebbero non essere immediatamente riconoscibili ma questo non ha pregiudicato assolutamente la comprensione dell'opera nella sua interessa e del suo messaggio di fondo che poi è la cosa più urgente di quest'opera come ti lascia perché anche se parliamo dell'inferno noi lasciamo il tuo spettatore con una speranza altrimenti quest'opera non avrebbe neanche avuto ragione di essere francamente perché gli angoscini abbiamo già tante oggi basta accendere la tv quindi realizzare un'opera che affosso ulteriormente rispetto ai problemi del mondo non sarebbe stata una grande operazione ecco mi dito che hai presentato già quest'opera agli studenti quali sono le domande che normalmente ti vengono rivolte dopo la fogliezione del film diciamo che gli studenti sembrano essere molto colpiti del fatto di aver trovato delle relazioni tra le tersine di dante e i fatti storici che abbiamo che abbiamo citato laddove appunto sono stati compresi molti sono stati compresi quindi da questo è venuto fuori un po anche un dibattito nel dire ma è sicuramente come per dire è davvero quello il fatto più iconico che si possa citare in relazione a quel tipo di peccato è allora dice ragazzi il nostro è soltanto un suggerimento un assist per me potete anche fare dei laboratori su questo il vostro insegnante potrebbe dire ok in mirabile visione d'inferno avete visto che i golosi sono associati a questo questo e questo perché non fate una ricerca e non dite voi secondo voi quale potrebbe essere oggi un simbolo da associare no a questo e questo è la cosa più bella che può avvenire perché perché sviluppa un'attenzione verso lo studio dell'opera di dante attiva deduttiva non passiva come quella che abbiamo subito noi maggior parte di noi perché bravi professori ne abbiamo avuti eh chi ha avuto la fortuna di averlo però generalmente insomma lo studio della commedia perché ha fatto eh soprattutto il liceo è associato un po' a dei pomeriggi noiosi no di applicazione un po' così eh forzata su qualcosa che non ci affascinava forse perché non avevamo il bagaglio esistenziale per comprendere oggi ok a 16 anni 17 18 continuano come noi a non avere il bagaglio esistenziale noi l'abbiamo sopra i 40 io sto sopra quindi ho degli elementi in più rispetto a quell'età ma noi abbiamo compensato questo proprio eh come con eh le animazioni che devo dire che sono molto piaciute ai ragazzi questo anche molti commenti sono arrivati da questo e l'opera di attualizzazione e più in generale un montaggio piuttosto devo dire credo di poterlo dire piuttosto accattivante accattivante nel senso che cattura quindi eh tiene lo spettatore per una montagna di minuti attaccato allo schermo perché c'è una continua logica di implicazione che fa sì che la che la narrazione non sia segmentata a scalini come possiamo immaginare l'inferno ma continua perché l'inferno è una spirale è qualcosa che ha un un andamento continuo ecco noi abbiamo realizzato questa continuità con il montaggio con la musica con il sonoro con le citazioni con tantissime tutti gli strumenti che ha oggi un montatore un regista uno sceneggiatore per per realizzare la continuità che poi è lo strumento fondamentale di ogni narrazione audiovisiva cioè quando si realizza un film e anche qua si sono aperti moltissime domande sempre per rispondere alla tua da parte dei ragazzi che erano affascinati anche dalla possibilità di fare queste cose cioè per dire mi piacerebbe farle anch'io queste cose come come cominciato io ho esposto cominciato facendo un cortometraggio che è quello che dovreste fare tutti se volete approcciare il mestiere del radiovisivo mi fate un cortometraggio perché da quel cortometraggio anche di cinque minuti imparerete più cose che studiando tomi di qualsiasi lo dico io oggi l'hanno detto grandi del cinema ecco bisogna cimentarsi e quindi ecco penso di aver risposto insomma curiosità trasversali sia sui tematiche ma anche sulla proprio realizzazione stretta del film e anche sul punto qualcuno forse soliticava l'idea di voler imitare questo tipo di di attività e questo è una cosa bellissima secondo me perché questo mi sembra che stiamo seminando bene stiamo seminando soprattutto nel terreno giusto dove dove i semi dove cadono i semi crescono non non sul cemento questo è un passo indietro ricordiamo l'altra opera che già hai fatto sì Fukushima l'inferno precedente dall'inferno all'altro sì beh Fukushima da qualche giorno è diventata anche una pagina un po' dolorosa perché è venuta a mancare più d'emilia qualche giorno fa e questo ha lasciato un vuoto devo dire enorme perché ho condiviso con lui anni della mia vita nel realizzare quel film film che ha avuto un successo enorme tanto che questo lavoro su Dante possiamo solo sperare che possa bissare quel successo però sembra per adesso sta andando bene ma vedremo tra tireremo le somme fra sei mesi un anno Fukushima oltre ripeto ad aver avuto una grandissima distribuzione internazionale e addirittura che è stata curata la voce narrante che nella versione italiana era di Massimo D'Aporto l'ha fatta Willian Defoe che è un attore diciamo mitologico e quindi questo ci ha permesso di entrare in moltissimi paesi Fukushima è un racconto anche questo al comune con l'inferno il fatto di essere mediato da un reporter nel nostro inferno giapponese il reporter era Pio D'Emilia nell'inferno tantesco evidentemente Dante è coadiuvato dal suo maestro come dire forse la differenza è che Pio D'Emilia avendo conosciamo attorno ai 60 anni era già magister da punto di vista giornalistico quindi non aveva bisogno di una figura di quel tipo a fianco l'opera di Pio D'Emilia è considerata dal punto di vista giornalistico una vera perla quindi chiunque non l'avesse visto può ancora farlo perché è stato trasmesso chi ha Sky ce l'ha sempre lì a un demanda chi non ce l'ha anche la 7 l'ha trasmesso un paio di anni fa in prima serata con Andrea Purgatori che ci ha dedicato una serata è stato un po' come un rilancio perché quando vai sulla tv generalista rispetto alla tv a pagamento la pay tv è un po' come uscire una seconda nascere uscire una seconda volta il percorso di Fukushima è incredibile perché non sembra esaurirsi mai tra l'altro quando è morto Pio purtroppo di nuovo Sky TG24 l'ha mandato con una bellissima lirascalia in alto ciao Pio in prima serata con tutto il documentario mandato in chiaro per la terza o quarta volta credo quindi non è semplice ripetere una cosa del genere però io ce l'ho messa tutta in questa nuova opera e credo che rimarrà più nei nostri confini perché lo è proprio per DNA ma lo è consapevolmente poiché questo possa arrivare in qualche presidio di cultura italiana istituti italiani di cultura, società italiani nel mondo diciamo ecco lì sì però che possa essere mainstream con le terzine in vulgare non lo so, mainstream nel senso internazionale a meno che quel distributore non vedano l'operazione suggerendoci un adattamento sotto alcuni punti di vista allora anche noi come spesso facciamo quando leggiamo Shakespeare, Cervantes non lo leggiamo nella lingua originale e quindi leggiamo degli adattamenti, delle traduzioni ecco allora che magari anziché delle terzine originali ci mettiamo gli adattamenti in inglese e anche le voci insomma le doppiamo tutte in inglese e si può fare una versione internazionale dopo di che qual è il problema? non è anche tanto rilevante diciamo una porzione del problema è che nell'attualizzare Dante abbiamo scelto delle clip che sono iconiche per un pubblico universale ma con molti abboccamenti o ammiccamenti di cronaca italiana, di storia italiana quindi quella parte lì sarebbe almeno diciamo di personaggi iconici che si sono tristemente fatti, resi noti nel mondo ad esempio Schettino ok, lì non c'è bisogno di cambiarlo però ci sono alcuni fatti che sono più nostri e quindi lì forse si dovrebbe intervenire paradossalmente ogni nazione potrebbe avere una sua mirabile visione con la sostituzione diciamo di un 20% più o meno di clip che rimandino alla propria storia quindi diciamo un mosaico che può trovare i vari puzzle secondo la nazione dove viene proiettato chiudiamo con abbiamo parlato delle due opere ma parliamo un attimo anche di Matteo come è nato il tuo percorso artistico così almeno chiudiamo con conoscendoti un pochetto meglio come è nato? beh, io dovevo foto da piccolo che avevo la telecamerina 8 mm in mano mentre mamma mi teneva in braccio quindi diciamo che mi sento abbastanza tranquillo da questo punto di vista poi mi sono un po' perso le superiori e i primi anni in università un po' così mi sono divertito perso un po' di tempo lo scopriamo che mi sono dedicato in modo molto molto importante da partire dal 2004 tipo quindi una ventina d'anni fa però in modo professionale da 12 anni cioè dal 2010 quando ho pubblicato la mia prima opera che non è mainstream nel senso broadcast però ancora vende paradossalmente dopo 12 anni che è uno spettacolo per planetari digitali che replica all'interno di un'astronave aliena con una visuale a 360 gradi si intitola Space Opera lo dico è un racconto sempre più con sempre più entusiasmo quindi non nascondo come quelle opere d'esordio quelle opere un po' di formazione ovvero è un'opera devo dire un prodotto vero e proprio che è uscito fuori magicamente non lo so come e ha creato uno scrimine tra il mio periodo di formazione e il mio periodo di la mia carriera se vogliamo chiamarla così e questo film è un spettacolo di 40 minuti da proiettare ripeto su superfici a forma di cupola quindi planetari digitali con le moderne tecnologie è andato in quasi 200 planetari del mondo e come dire in 10 lingue e la cosa più incredibile è che adesso mentre proprio adesso veramente se devo controllare ma proprio adesso a Roma lo mandano a ciclo continuo al museo al museo planetario di Roma cioè ci sono 3 o 4 proiezioni di Space Opera ogni settimana da almeno 3 o 4 mesi perché il planetario aveva chiuso per 8 o 9 anni pentezze burocratiche ed è stato uno dei primi ad essere proprio costruito in Italia assieme a quello di Milano prima parliamo del periodo fascista quindi è una cioè la sua repertura è stata una bellissima notizia il fatto che oggi a 12 anni ancora lo mandino e la gente ancora fa la fila non lo dico per vendere le pentole è veramente così se vai a vedere ed è incredibile che 12 anni ancora tenga quindi per me io come ecco per risponderti come filmmaker come autore nasco con Space Opera non nasco con Fukushima assolutamente però ripeto sono dei canali diversi quindi io considero questo qui soltanto un'opera terza più che un'opera seconda come sforzo anche che ha comportato poi è chiaro bisogna fare dei distingui ultima cosa in assoluto ti stai dedicando alla filmografia quindi al cinema un pensiero per non so il teatro insomma altre altre sezioni c'è non dico c'è no quindi non mi abita proprio non è proprio il mio ambito teatro tutto quello che è live non mi permette quella rielaborazione un po' romantica nella tranquillità diciamo autoriale del proprio salotto che è fondamentale nella mia nella mia nella mia chiamiamola attività o so produzione artistica non troppo sarebbe troppo stressante bisogno di avere una capacità proprio di controllo fino all'ultimo e tutto ciò che la bellezza anche del teatro degli spettacoli purtroppo sono sempre diversi e quindi questa cosa non so se sia molto compatibile con la mia con la mia vocazione quindi no mi sento per ora di escluderlo abbastanza poi non è detto che si possa io tre anni fa o quattro anni fa più o meno neanche avrei sognato di fare un documento su Dante il tema ok è nato facendo un video il video della candidatura diciamo tra questi tre opere principali che ho citato ce ne sono alcune intermedie su formati anche diversi uno dei quali è un video per la candidatura UNESCO degli affreschi di Giotto a Padua che ha avuto poi il riconoscimento UNESCO però ecco stando dentro la cappella degli Scrovegni intere notti a fare il time lapse forse per osmosi ho come dire assorbito una una fascinazione del Trecento che poi è lo stesso secolo perché sono Poevi Giotto e Dante quindi dallo studio di Giotto anche in quell'iperbola finale che già c'era nel quel video che appunto riportava le ultime terzine dell'inferno forse c'è già l'assista alla mia opera successiva che è quella per cui stiamo qua quindi oggi quindi da cosa nasce cosa ecco non è che un giorno mi sveglio e mi viene una pazza idea credo che tutto sia come il mio racconto è continuamente implicato anche le idee siano implicate le une alle altre quindi è un processo assolutamente sì se uno vuole vedere il tuo Dante e il tuo inferno allora trattandosi delle marche che infinite diciamo non sono in termini di cinema quindi ci sono delle sale molto finite però abbastanza da poterle vedere senza far troppi chilometri allora le prime tappe la prima tappa assoluto marchigiana è il 26 27 28 pardon scusate è il 21 febbraio quindi tra qualche giorno a Macerade Cinema Italia alle 9 e un quarto poi il secondo appuntamento marchigiano sarà a Torentino il 23 febbraio nel multiplex giumetti nell'ambito di una rassegna che si chiama la decima musa poi ci sarà il 26 27 28 di febbraio a Ancona quindi la mia città di residenza al cinema Italia è azzurro a seconda delle giornate insomma sono gli stessi che gestiscono quei due cinema e la cosa bella di questi tre giorni è che saranno gratuiti al pubblico perché il comune di Ancona lo posso dire ho avuto l'ok oggi è intervenuta per fare questo regalo alla comunità alle scuole e ai cittadini in un numero limitato di spettacoli che poi insomma verranno comunicati e quindi questo per me è un grandissimo segnale di attenzione anche da parte dell'amministrazione verso un lavoro mio e un lavoro di un concittadino e questo è bello che accada molto bello quindi ringrazio Maraschi l'assessore Marasca ringrazio tutta l'amministrazione che ha mi ha dato questa insperata possibilità perché è un format veramente inedito e poi il continuo perché ci sono altre date poi dopo concludo c'è il non lo posso ancora dire il 2 marzo probabilmente Agiesi va beh lo diciamo però l'Aurola conferma lunedì quindi non prendetela per certa e abbiamo il affermo il primo marzo ad Ascoli Piceno il 10 marzo non vi dico i cinema perché se no vi voglio fare l'elenco non mi sembra questo il caso tanto usciranno via via ai comunicati quindi è un modo di informare chi fosse interessato e poi avremo altre tappe Fano Senigallia Pesaro le cui date però sono ancora in fase di definizione non si può dire ottimo è abbordante speriamo che sia d'accordo pubblico quindi io cercherò di essere in queste date per riuscire a vedere il tuo lavoro completamente ma te sarai in sala sempre oppure in alcune specifiche queste che ho citato sempre ce ne sono in realtà una 35-40 che faremo da qua a maggio in tutta Italia in queste anche ho garantito la mia presenza perché a me piace incontrare il pubblico perché è un modo per incentivare la partecipazione per avvicinare poi i docenti perché noi queste proiezioni tendenzialmente diamo accesso libero ai docenti infatti quasi tutti i comuni che poi lo veicolano a livello di comunicazione quasi tutti i cinema accettano che ci sia appunto una partecipazione gratuita dei docenti perché primo riempire le sale è utopico secondo perché poi i docenti sono poi quelli che eventualmente organizzano le mattine e quindi c'è un'attenzione strategica verso questo quindi ovviamente però l'invito è rivolto a un pubblico più possibile trasversale anche i ragazzi cioè anche non ci aspettiamo che i ragazzi di 18-19 anni curano al cinema a vedere Mirabile Visione però la scuola interviene magari passa parola insomma ci sono degli strumenti che poi possono incoraggiare una partecipazione anche di un pubblico non tendenzialmente legato a questi contenuti perfetto Matteo ti ringraziamo sarà un piacere conoscerti e approfondiremo la tua conoscenza sicuramente andando avanti grazie mille ciao a tutti ciao ciao